Siamo partiti. A partì già con i filmati? Certo. Siamo partiti. Appuntamento alle 1.30, ore 2.05, siamo piantati ancora a Sesti. Grazie a? Grazie a grande Sergio. Sergio e Ovic. Anche Ovic ci ha dato una gioia, subito con mezz'ora secca di ritardo. 13.56 sul fondo. Allora. Avete appena visto il grande Sesti. Finalmente c'è un'otto Sesti e si è deciso a prendere un pulso. Si è deciso a prendere un grande pulso. Aria condizionata, televisione di marca e autista all'avanguardia. E' un'altra cosa. No, siamo partiti. Che ore sono? Scusa. 2.05, abbiamo già fatto due volte un giro intorno alla Piscina. Abbiamo fatto il giro di Sesti e partiamo adesso alla volta di Versilia-Ovest. Versilia-Ovest. Signore e signori ci vediamo. Ci versiamo. Ci vediamo a Versilia-Ovest. Sperando di non fare ancora una vasca in via Sesti. Ok. Bravi. Ciao. Ciao.